ciao a tutti i follower del concerto nel parco casa del jazz balletto di roma mario stefano pietro d'archi il nostro concertista introdotto anche come parte pulsante di tutto lo spettacolo sulla store piazzolla il balletto di roma al completo abbiamo appena finito di fare i piazzamenti in palcoscenico e siamo estremamente felici di tornare a esibirci ma nello stesso tempo a vivere una nuova esperienza siamo tutti tesi in fibrillazione perché ovviamente è una esperienza nuova all'aperto ma siamo veramente molto contenti è stata un'esperienza incredibilmente unica io che sono abituato a viaggiare in giro per tutto il mondo ad oggi ho suonato in oltre 56 nazioni però questa è stata veramente è un'esperienza unica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti